Devo dire che è davvero un incontro importante, abbiamo visto cose molto interessanti, l'ambiente è veramente effervescente, credo ci siano ottime possibilità di sviluppo e siamo molto contenti di essere qui e di partecipare a questo evento. La proteina botulinica è davvero un farmaco meraviglioso, affascinante e di cui ancora oggi non conosciamo tutti gli effetti. Sicuramente oggi rappresenta il presidio più importante per contrastare e prevenire l'invecchiamento muscolare del volto e in questo è davvero efficace, oltre a essere uno dei trattamenti estetici più eseguiti nel mondo. Per quanto riguarda le regole d'oro, la tossina botulinica proprio rispetto al passato oggi ha dei grandissimi vantaggi che sono il migliore utilizzo, la maggiore maneggevolezza, cose che gli consentono di avere quello che non aveva prima e cioè la capacità di essere prevedibile, precisa, sicura.